La festa dell'Europa, una giornata celebrata nei paesi dell'Unione Europea per rafforzare il senso di appartenenza all'Unione e promuovere l'integrazione europea. A Città della Scienza, dal 9 al 13 maggio, il Festival Europe Museum promuove approfondimenti e incontri fra studenti delle scuole napoletane ed esponenti del mondo accademico, della cultura, delle associazioni, per confrontarsi in chiave europea sui diritti, sulla giustizia, sull'occupazione, sulle politiche sociali, sull'ambiente. La creatività dei giovani trova poi un'occasione straordinaria nei laboratori d'impresa creativa, un'iniziativa riservata ai ragazzi della scuola superiore che espongono i prototipi e le creazioni originali con cui parteciperanno al KX Youth Award, una competizione europea nata per stimolare le idee innovative e la curiosità scientifica degli adolescenti. Una giornata importante per ricordare l'importanza dell'Europa e soprattutto il lavoro che c'è ancora da fare per realizzare l'Europa dei diritti, l'Europa delle persone, l'Europa dei popoli e non solo l'Europa delle banche, dei governi e dei poteri forti. Napoli è una grande opportunità perché città che sta in Europa, che guarda anche a sud, al Mediterraneo e al mondo arabo, quindi oggi è importante che da Napoli ci sia questa riflessione con i ragazzi delle nostre scuole e credo che il futuro debba essere sempre quello di più di un'Europa dei diritti, dell'inclusione, della pace, della solidarietà, dei beni comuni, del rispetto dei territori e non quello della violenza, della sovraffazione, del consumismo universale e del saccheggio delle nostre terre.